Juventus 0-Udinese 1. La rincorsa al quinto scudetto consecutivo comincia nel peggiore dei modi per gli uomini di Allegri, sconfitti allo Juventus Stadium dall'Udinese di Colantuono. 0-1 il risultato finale, scaturito dalla rete di Theroux al 78esimo. Un autentico colpaccio per i friulani. Nel primo tempo sono i padroni di casa a fare la partita, nonostante gli ospiti si siano difesi in maniera compatta, rinunciando tuttavia ad ogni velletà offensiva. La ripresa non apporta modifiche sostanziali al copione e tra le file della Juve si evince, inevitabilmente, una mancanza di qualità, in particolar modo a centrocampo, reparto che sembra indebolito. Bene gli ospiti a gestire il vantaggio sfiorano addirittura più volte il raddoppio in contropiede. Per l'Aumentus si tratta della prima sconfitta di sempre in casa alla prima giornata.